ben ritrovati di nuovo su review in you oggi vado a recensire insieme a voi questo capo tasto marcato wingo comprato su amazon ad un prezzo veramente contenuto e vi lascio il link in descrizione qui sotto ci sono diverse versioni ovvero a dipendenza di che strumento voi possedete potete scegliere il capo tasto più adeguato ad esempio questo qua e per chitarra classica quindi c'ha come particolarità il fatto che la parte sopra è tutta dritta e dovrebbe essere come misura 5 centimetri adesso ve lo dico esattamente per esattezza 5,9 centimetri quindi è apposta per le chitarre classiche mentre c'è anche poi quello per chitarra acustico elettrica che è un po incurvato e un qualche millimetro più corto però se schiacciate comunque sotto quindi descrizione potete scegliere il capo tasto che più vi piace a seconda del vostro strumento c'è anche in diversi colori vi faccio vedere giusto qua sul lato della confezione come vedete c'è anche argento nero e questo marrone chiaro mi piace molto come strutturato c'è anche una parte gommata qua è una spugna protettiva anche sotto gommata per non andare a rigare la chitarra ed è anche bello visivamente arrivano inclusi anche questi plettri che vi permettono di andare a suonare la chitarra o quel che sia sono in totale 5 come vedete questa recensione vi è piaciuta vi invito a lasciare un like ad iscrivervi al canale per nuove recensioni e trovate come sempre tutto qui in descrizione per l'acquisto del prodotto alla prossima review Grazie a tutti Grazie a tutti